Abbiamo studiato i testi sacri, le scritture e i fatti storici di religione come lo zoroastrismo, il buddismo, l'induismo e altre religioni, come il cristianesimo e l'islam, e abbiamo capito che la situazione è all'incirca la stessa ovunque, che la conoscenza è stata portata dai profeti e trasmessa verbalmente. Solo dopo un po' di tempo è stata scritta dalla gente a memoria. Poco dopo è stata modificata secondo la volontà politica dell'uno o dell'altro sovrano e sia le fonti che i manoscritti indesiderati furono distrutti. Quindi ci sono molte interpretazioni di questi testi sacri e già sulla base di tutte queste interpretazioni e di numerose traduzioni avvengono divisioni con varie denominazioni, rami e tendenze. E cosa abbiamo adesso? Anche all'interno di una religione le persone sono divise, sono artificialmente divise in amici e nemici, anche se Dio è uno. Quando giunsero i profeti e trasmissero informazioni per via orale, le persone che le avevano ricevute le ritrasmissero a loro volta l'uno all'altro. Ed ecco la domanda, è possibile fidarsi della memoria umana? Della memoria e della coscienza. Infatti, la ricerca ha dimostrato che fondamentalmente ogni evento che diventa un ricordo può già essere distorto tanto da essere irriconoscibile. E la coscienza umana è un falsario. Infatti, mantiene l'immagine esatta dell'evento solo per pochi millisecondi, ma quando la memoria a lungo termine viene attivata, distorce completamente l'evento, rendendolo irriconoscibile. Gli esempi si riferiscono al cristianesimo, al Nuovo Testamento. La maggior parte di questi libri sono stati iscritti in un periodo di due generazioni dopo che Gesù Cristo se n'era già andato. Ora vorrei leggere un fatto storico, quello di cui parlava Eusebio di Cesarea, fu il padre della storia della Chiesa, vissuto nel III secolo d.C. Nel libro La storia ecclesiastica, volume III, riguardante il Vangelo di Marco e chi era Marco, si legge quanto segue. Marco, essendo diventato l'interprete di Pietro, ha scritto accuratamente, anche se non in ordine, ciò che ricordava delle cose dette o fatte da Cristo. Infatti, egli non ascoltava il Signore, né lo seguiva, ma dopo, come ho detto, seguiva Pietro, che adattava il suo insegnamento alle esigenze di chi lo ascoltava, ma senza alcuna intenzione di dare un risoconto collegato dei discorsi del Signore. Ebbene, in altre parole, la persona trasmisse quello che aveva sentito una volta da qualcuno, secondo una sua libera interpretazione. Da qualcuno, cioè già attraverso un mediatore, cioè attraverso un fondo e così. Non gli era mai stato vicino. E c'è un altro esempio che riguarda Matteo, esattamente il Vangelo di Matteo. Di che cosa si parla? Matteo scriste gli oracoli di Gesù in lingua ebraica, e ognuno li tradusse come poteva. Cioè, non solo la gente li scriveva a memoria, ma ognuno li traduceva come poteva. Più tardi, dopo diverse centinaia di anni di traduzione e varie interpretazioni, tutto questo cominciò ad essere recolto in un unico testo. Anche in questo caso, a beneficio di chi hanno iniziato a compilarlo, un cristiano, per qualcuno che amava Cristo e lo rispettava, per i mecenati e alcuni re e capi di religione. Chi ha iniziato a plasmare le sacre scritture quando ha creato una religione? E in realtà non creò una religione solo a lì di Stato, ma una religione a livello mondiale. Giusto? Beh, iniziò creandola come religione di Stato, come strumento per controllare le masse, a dire il vero. Dopotutto è vero. Costantino era un pagano e rimase pagano fino all'ultimo respiro. Solo. Quando stava già morendo, fu battezzato per essere ricordato. E anche allora questo fu fatto per volere di chi gli era vicino. Se avesse lasciato questo mondo da pagano, il cristianesimo non sarebbe stato in grado di dominare il mondo, come poi è avvenuto, perché il suo creatore, il primo sovrano, a quanto pare era un pagano e non accettò il cristianesimo fino al suo ultimo respiro. Beh, è una cattiva pubblicità. Ecco perché fu costretto ad adottare il cristianesimo sul letto di morte. Almeno così è scritto. Eppure cosa testimoniano coloro che gli erano vicini in quel momento? Niente. Fu solo registrato il fatto che lo aveva adottato. Ma non è mai diventato cristiano. La storia. Ebbene, Se una persona aderisce al paganesimo e al politeismo fino all'ultimo respiro, è ancora più, secondo la comprensione che professava Costantino, mentre questa, scusatemi, era proprio una tendenza, quando una persona per compiacere se stessa, per compiacere tutto, un atteggiamento consumistico, nei confronti della più antica religione pagana che professava, lui si dichiarò Dio, sovrano, supremo. Beh, e cose simili. Cosa possiamo dire a questo proposito di fronte alla verità? Che cosa avrebbe scelto e incorporato nel cristianesimo la verità? Mentre a quel tempo c'erano in realtà dei veri seguaci di Cristo e in quantità sufficiente quegli stessi gnostici che effettivamente trasmettevano la verità e la parola di Dio nella massima purezza, notate che non l'hanno scritto. Ma lo trasmettevano l'uno all'altro. Lo trasmettevano verbalmente, ma insieme. Se non c'era nessun altro, una persona non aveva il diritto di trasmettere le parole di Cristo come insegnamento. Lo facevano insieme. Perché? Perché una persona sola distorce sempre. Ecco perché veniva trasmesso da un gruppo a un altro gruppo. Ed era una successione di generazione in generazione e cercavano di conservare tutto. Ancora una volta, in seguito, quando descrivevano gli gnostici, raccontavano, sono già tempi successivi quando c'erano documenti e storie, e sicuramente c'era già molta distorsione, ma tuttavia, anche in tempi successivi, quando descrivevano gli gnostici, e il cristianesimo, come una religione, dicevano che i veri seguaci di Cristo insegnavano cose completamente diverse e in un modo totalmente diverso. Prima di tutto, insegnavano che Gesù Cristo aveva portato l'amore di Dio e l'aveva concesso a tutti coloro che lo avrebbero accettato e che non ci poteva essere un mediatore tra Dio e l'essere umano. Ecco perché tutto era diverso. Beh, è la verità della vita. È la verità storica che viene confermata. Certo, il cristianesimo stesso all'inizio era un vero e proprio ino alla libertà. Certo. Alla libertà e all'amore. Ma è anche interessante che perfino al momento in cui Costantino compilò e scelse monoscritti che gli convenivano perché... Bene, diamo un'occhiata proprio a quei monoscritti, proprio a quei evangeli. Raccontano la stessa cosa esattamente parola per parola. Per quanti anni ha predicato Gesù Cristo? A quante persone? Quanti evangeli c'erano e ci sono ancora? Proprio quelli apocrifi e tutto il resto. Ma non è stato preso nulla. Una parte molto limitata è stata presa. Perché? Perché, parliamo francamente, se raccogliamo tutti gli apocrifi, se raccogliamo tutti i ricordi, allora, se mettiamo da parte tutto il guscio aggiunto dalla gente, quale sarà il risultato di ciò che Cristo ha insegnato. All'altra, veri semi e questo è tutto. È molto semplice. È possibile costruire un'organizzazione religiosa basata su questo e che potrebbe essere usata come strumento di potere, onestamente parlando. La gente non ha paura, naturalmente. C'è l'amore. Tutte le persone sono libere, loro, sì. E questo è completamente diverso. Ecco perché non si adiceva assolutamente ai governanti. Nessuno dice, ragazzi, capisco che possiate pensare che stiamo distruggendo o andando contro il cristianesimo. No, ragazzi, anche io sono cristiano. Sono battezzato e sono cristiano. Amo l'ortodossia. Non possiamo andare contro il cristianesimo o un'altra religione, ma... Ma questo è vero. E la verità non può essere nascosta alle persone, altrimenti possono perdersi. Non stiamo dicendo che il cristianesimo non può portare le persone in paradiso. Ma guardiamo in faccia la realtà. Il cristianesimo è stato diviso in molti fiumi, rivoli e ruscelli. E ognuno di questi ruscelli dice che solo loro hanno la verità, tenendo in mano quella stessa Bibbia di Costantino, che è stata corretta e cambiata migliaia o anche di più di volte dopo la sua morte. Ebbene, anche questo è vero. Così, tenendo questo prodotto nelle loro mani, dicono che è la parola di Dio, che non ha subito alcuna distorsione che porta alla verità, ma solo loro possono interpretarla correttamente. E solo attraverso di loro, voi, amici miei, potete venire in cielo, cioè hanno in mano le chiavi del cielo, mentre il resto della gente non le ha, il resto sono solo chiacchiere. Beh, non è così? Nella storia del cristianesimo c'è in realtà un fatto piuttosto vergognoso e palese, c'è una Bibbia degli schiavi. Sì, è vero. Abbiamo parlato di schiavitù in generale, del fatto che cambiano il significato di una parola e qui non si sono preoccupati affatto e hanno rimosso anche interi capitoli. Ora, sto parlando del XIX secolo. Dell'opera missionaria? Sì, quando i missionari inglesi distribuivano esattamente. Molti dei nostri amici potrebbero non saperlo, quindi almeno brevemente. In breve, i missionari inglesi distribuirono la Bibbia, la scrittura tra gli schiavi africani che si trovavano nelle colonie britanniche, sul territorio, nella regione del Mar dei Caraibi. Ma la Bibbia distribuita era senza i capitoli che indicavano... Senza tanti capitoli, dove si parlava di amore, di libertà e così via. Ho delle informazioni, tra l'altro, posso leggerle, sarà interessante. Bene, facciamolo senza distorsioni da parte nostra. Grazie. Pubblicata a Londra nel 1807, la Bibbia degli schiavi esclude il 90% della Bibbia ebraica e il 50% del Nuovo Testamento. Dei 1189 capitoli della Bibbia protestante standard, la Bibbia degli schiavi ne contiene solo 232. E così, nella lettera del 1808 che riguardava la distribuzione di questa Bibbia, il Vescovo di Londra, Bale B. Porteos, scriveva, preparate per loro una breve forma di preghiere pubbliche insieme a porzioni selezionate della scrittura, in particolare quelle che riguardano i doveri degli schiavi verso i loro padroni. Naturalmente, questo è un fatto oltreggioso. E ripeti, chi l'ha detto? Bale B. Porteos, Vescovo di Londra, anno 1808. si tratta di uno dei importanti mediatori e leader dell'organizzazione. Penso che le dispute finiranno su questo punto. Penso che i nostri amici abbiano già capito che non stiamo in alcun modo stravolgendo i fatti o distorcendo la storia, ma stiamo parlando della verità, stiamo parlando di ciò che è vero. e la prima cosa con cui inizia il cammino spirituale è l'onestà e la verità, prima di tutto verso se stessi e poi verso gli altri. Giusto? Sì, giusto. Non sminuiamo né biasimiamo in alcun modo il cristianesimo. Parliamo di persone che si sono autonominate mediatori e hanno usurpato il potere e che hanno operato delle divisioni considerando se stessi come signori feudali e noi come schiavi. Niente di più. Questo è parte del modello consumistico. Come è stato scritto il Corano? È stato scritto dopo la morte del profeta. Il califo Osman incaricò l'ex segretario del profeta di raccogliere tutti i documenti e di fare il riassunto. originale. Sembra che l'ex segretario abbia raccolto tutto quello che c'era tutto quello che era stato scritto dalla gente poiché la gente scriveva quello che diceva il profeta ma il profeta stesso non ha scritto nulla. Conosciamo già il modo in cui la gente pensa come vengono trasmesse le informazioni. Sì, esattamente. E insieme all'ex segretario molte altre persone erano impegnate in questo lavoro cioè furono create quattro versioni dei comandamenti di Allah e degli insegnamenti del profeta. Ragazzi, ecco il punto chiave. Diciamo questo ma non vogliamo offendere nessuno non vogliamo davvero offendere nessuno e mettere in dubbio il corano o qualsiasi altra religione stiamo solo parlando della verità in questo momento. Quindi tranquillizzate gli shaitan che sono nella vostra mente. E ora c'era il punto chiave quattro versioni del primo corano. Com'è possibile se il profeta ha parlato di una sola verità? Non possono esserci quattro verità non possono essercene due. La verità può essere una sola. e qui si vede perfettamente come funziona la coscienza. E quando cominciarono a scrivere il corano cominciarono a dare una forma alla religione che cominciò subito a essere divisa in frammenti. In altre parole la bandiera che fu portata qui dal profeta che l'aveva ricevuta dalle mani di Jabrail per volontà di Allah stesso fu fatta a pezzi dalla gente. La bandiera sotto la quale tutti i musulmani di questo mondo avrebbero dovuto unirsi e un musulmano è prima di tutto colui che ama Allah. E quella bandiera fu strappata in diversi pezzi proprio in quel momento quando l'organizzazione stessa si stava formando. E questo deve essere conosciuto e ricordato quando si pensa ad Allah o al profeta che la pace sia con lui. Perché è vero. ed è sulla coscienza di ognuno di noi. Sì e c'è un altro punto non ne ho parlato prima ma ora che lei l'ha menzionato mi sono reso conto che vale la pena accennare anche a questo. Perché in generale è iniziato il consolidamento del Corano? Perché il califo Osman aveva bisogno di una legge comune che fosse sostenuta dall'autorità del profeta? Anche questo è un punto molto importante. Voglio dire perché qual è il motivo per cui hanno deciso? la creazione di un'organizzazione che stabilisse legalmente i suoi diritti e lo elevasse al di sopra di tutti e che gli desse una falsa autorità sì e quando queste quattro versioni furono compilate Osman ordenò di farne una sola edizione che fu poi nel 656 ufficialmente canonizzata mentre tutte le altre furono distrutte. Vi ricorda qualcosa? Non era successa la stessa cosa 300 anni prima? non assomiglia ai trucchi del pagano Costantino? Non sto dicendo niente sto solo chiedendo stavo a decidere amici miei. E sapete qual è la cosa più la mia lingua si rifiuta di definirla interessante ma è la cosa più incredibile che proprio come può sembrare la codificazione del Corano al contrario avrebbe dovuto unire i musulmani ma il Corano stesso è l'insegnamento che il profeta ha portato doveva unire tutto il mondo tutte le persone e tutte le persone dovevano essere musulmane perché l'Islam è la religione dell'amore che avrebbe unito tutte le persone di questo mondo a questo scopo fu inviato e per questo scopo Mahometo fu disegnato da Allah stesso come l'ultimo profeta fu scelto tra tutte le persone che vivevano nel mondo a quel tempo e cosa accade e che cosa è successo chiediamolo alla ricercatrice e come risultato della codificazione come appunto la codificazione ha causato fortissimi disaccordi tra i musulmani naturalmente perché molti musulmani si sono ricordati di ciò che il profeta aveva detto perché non era passato molto tempo e non erano passati molti anni dalla morte del profeta e così sono apparse tendenze diverse assolutamente giusto e così che è successo inoltre molte persone si sono interessate a creare ulteriori divisioni ognuno secondo le proprie tendenze quando videro che si stava formando una religione ufficiale dominante mettiamola così a quel punto c'erano già dei clan o comunque possiamo chiamarli delle sette ma altre tendenze religiose cominciavano già a formarsi e religiose lo sottolineo perché avevano già i loro codici di legge e di nuovo il profeta stesso serviva come autorità per loro sì non è vero esatto ma ci sono stati anche altri come i primi cristiani e lo sottolineo ancora una volta che rimassero fedeli ad Allah e al profeta sono loro che hanno conservato la verità e l'hanno conservata per molto tempo beh per più di mille anni ma erano pochissimi e non pubblicizzavano nemmeno la loro presenza nel mondo perché? perché le organizzazioni avevano potere e loro capivano benissimo che tutti si sarebbero messi contro di loro ma erano responsabili della verità e tenevano saldamente in mano lo standardo del profeta in attesa del rinnovamento della verità l'esempio di cui volevo parlarvi è l'esempio del bramanismo in India quando si formò e si creò appositamente una casta di persone più precisamente si tratta di una casta di persone che si potrebbe dire ha creato appositamente per sé sia dei testi che un sistema cioè l'antica conoscenza indiana che prima era stata trasmessa per via orale per molto tempo è stata a un certo punto sistematizzata e scritta ed è stato tutto costruito in modo tale che esattamente come ci ha detto Taizia un uomo comune di un'altra casta Varna non avrebbe potuto comprendere questa conoscenza senza un interprete senza un bramino e non avrebbe potuto eseguire alcun rituale senza di lui costruirono così un sistema che poi è continuato nel corso degli anni e che funziona ancora e possiamo dire che fornisce alla loro casta una tale un'esistenza più che confortevole si un'esistenza più che confortevole e non c'è da stupirsi si chiamiamo le cose con il loro nome si un'esistenza più che confortevole dopo tutto stiamo parlando del modello consumistico si e questa è solo una conseguenza proprio di quel modello si e nel nostro inferno con un modello consumistico con questa dittatura quale obiettivo si può perseguire una vita più agiata quando ho fatto ricerche sul buddismo quando studiavo alla facoltà di filologia giapponese ed eravamo presenti alle conferenze sul buddismo in Giappone parlavamo con le persone che aderivano a questa religione già allora mi sorprendeva il fatto che prima che il buddismo fosse registrato per iscritto in realtà intorno al primo secolo avanti cristo nel terzo secolo avanti cristo l'imperatore indiano Ashoka era stato per così dire proprio il principale ideatore del buddismo voglio dire egli aveva iniziato i monaci in modo che era il capo si era lui a capo di questo processo perché in quel momento c'era in realtà l'opportunità per le diverse religioni di diventare per così dire religioni del mondo ma lui puntò sul buddismo radunò un migliaio di monaci e dette loro l'incarico di mettere ordine nella fase iniziale essi misero tutto questo in ordine verbalmente almeno verbalmente ancora la stessa storia si ma la cosa interessante è che lui cominciò a stabilire la religione e a codificarla in una legge si ha cominciato a fissare la religione c'è un fatto interessante che già a quel tempo negli anni del regno di Ashoka iniziò una tremenda discordia tra le scuole buddiste tutto questo avvenne prima che il canone pali fosse registrato per iscritto in lingua pali e perché in realtà non stavano combattendo per la verità giusto né per l'insegnamento che era stato loro trasmesso da Buddha Buddha sì ma lottavano per il loro potere e per ciò che a loro conveniva lottavano per le loro comode posizioni eppure non vediamo la stessa cosa oggi a volte le persone non si accorgevano nemmeno di quello che facevano perché perché non vivevano secondo Dio non vivevano secondo l'amore di Dio non conoscevano la verità e non l'avevano mai professata ma erano ottimi traduttori o buoni storici ascoltavano e memorizzavano spiegavano come potevano traducevano come potevano e capivano perché non aveva alcun valore per loro perché il più grande valore per loro era avere il rispetto degli altri a volte i traduttori che si accorgevano persino di introdurre modifiche e di distorcere l'essenza e la verità tacevano su di essa alcuni cercavano persino di giustificarsi ma comunque conservavano queste distorsioni perché? perché la società le accettava in questo modo se avessero detto la verità la società non le avrebbe accettate perché? perché questo avrebbe contraddetto gli scopi e gli obiettivi dell'organizzazione stessa l'organizzazione in cui molte persone stanno tra Dio e l'uomo anche se in tutte le religioni tutti i profeti hanno detto la stessa cosa nessuno può mettersi tra Dio e l'essere umano ogni parola che distorce ti manda non a destra ma a sinistra o viceversa immaginate di dover andare dal punto A al punto B e di usare una mappa e la mappa invece di indirizzarvi lungo una strada dritta vi manda in una direzione completamente diversa un navigatore GPS così rotto vi porta completamente nella direzione opposta quelle sostituzioni alterazioni e distorsioni della vera conoscenza che i profeti hanno portato sono esattamente il navigatore GPS rotto che ci porta nella direzione esattamente opposta ma quando andiamo in una direzione diversa da quella a cui aspiriamo interiormente perché tutti aspirano a questo anche gli atei vogliono tutti amore e pace infatti la personalità di ogni individuo anche quella di un ateo aspira a tornare a casa ad andare verso Dio verso il mondo dove non c'è morte e come vediamo per quante distorsioni la nostra coscienza supporti per così dire grazie ai sussuri del diavolo nella verità per quanta pula si mescoli con quei granelli tuttavia a cui granelli esistono ancora chi cerca troverà di un'altra